Musica E' arrivato il momento di sollevare il nostro sguardo verso l'alto là dove osano soltanto i più audaci e i Flymovers di coraggio ne hanno da vendere Musica Musica Questo incredibile quartetto volante è costituito da Mitch, Matteo, Claudio e Gilda vengono dalla Germania e hanno una passione per i numeri aerei dove vate capito vero? ma ancora non sapete di chi cosa sono capaci Musica Musica I trapezisti sono tra gli artisti più amati del circo ed è facile immaginare perché approvazia, energia, allegria e caletto è tutto volando nel cielo della pista Musica 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 Attenzione Ora Mitch tenterà di eseguire un triplo salto mortale Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti